Nel prossimo futuro il cinipide galligeno potrebbe non rappresentare più un pericolo per la castanicoltura. C'è un altro insetto di provenienza giapponese che è pronto a combattere quello cinese che tanti problemi ha creato in questi anni. Si tratta del Torimus sinesis che una volta applicato sulla pianta uccide il parassita. In geniti sono stati i danni del cinipide. Solo nel 2013 la produzione è calata del 70% in Italia e della Campania in quanto patria della castagna ad aver pagato il prezzo più alto. Ora finalmente arriva un progetto per passare dall'emergenza cinipide al suo controllo. Si stima che in due o tre anni l'obiettivo possa essere centrato. Il progetto Optimus verrà presentato venerdì 21 a Montella alla presenza dell'assessore regionale Daniele Nugnes e dei massimi esperti del settore a livello nazionale. L'obiettivo è quello di ottimizzare un sistema di produzione di questi insetti antagonisti che si chiamano Torimus sinesis, insetti antagonisti del cinipide galligiano del castagno. È un progetto finanziato dalla misura 124 del PSR Campania ed ha il merito, venerdì vedremo i primi risultati, di accelerare la soluzione a uno dei problemi più grossi che ha colpito in questi ultimi dieci anni la castanicoltura. Cioè quello di fare la lotta biologica a questo insetto che ha devastato la filiera castanicola in questi anni, il cinipide galligiano. La lotta biologica è uno degli strumenti, è l'unico vero strumento di contrasto perché è uno strumento diciamo così ambientalmente sostenibile che può dare grossi grossi diciamo così risultati per debellare il cinipide. Il cinipide ha creato dei danni sconvolgenti alla filiera castanicola, ogni anno si sono perse decine e decine di milioni di euro di pil agricolo, ormai abbiamo credo superato i 100 milioni di pil persi in questi ultimi quattro anni solo in regione Campania. Grazie a tutti.